Dottoressa Matilde Leonardi, il vostro progetto Crodis, che cosa si tratta? Abbiamo il piacere di coordinare un grande progetto con 22 nazioni europee nel quale noi come BESA siamo responsabili dell'area lavoro e malattie croniche. Sappiamo che con l'invecchiamento della popolazione un lavoratore su quattro è affetto da una malattia cronica mentre è in età lavorativa. Per malattie croniche soprattutto noi abbiamo mal di schiena, mal di testa, depressione. Queste malattie impattano grandemente sulla performance del lavoratore causando molte assenze e grande presenteismo. La Commissione europea, vista anche la precedente esperienza che con il mio gruppo di ricerca della unità che dirigo come direttore qui al BESA, abbiamo una grande esperienza nell'impatto delle malattie sulle persone ma anche dell'ambiente di lavoro sulle persone quando le persone hanno una malattia. Abbiamo sviluppato un training che sarà adottato in 22 nazioni europee e verrà preso dalla Commissione europea come training per i managers perché sono coloro che bisogna in qualche modo andare a sensibilizzare. Nel Job Act noi abbiamo una certa attenzione per coloro che hanno tumori e grave malattie croniche degenerative. Credo che sia molto importante anche considerare che in realtà molte persone che non rientrano in categorie definite così protette ma hanno un problema di salute potrebbero beneficiare di un approccio al lavoro differente incluse forme di smart working e di lavoro flessibile o di altri accomodamenti cosiddetti ragionevoli che possono permettere a tutti di continuare a lavorare se lo vogliono quanto più tempo possibile con un ambiente attorno che sia favorevole. Lei partecipa a molti progetti europei con il suo team e il Coma Research Center che attività svolge? In questo momento noi che al Besta abbiamo la unità operativa che si occupa di coordinare ricerche sul Coma ma non abbiamo ancora i letti e confidiamo anzi che ci sia un impegno sia dell'Istituto che della Regione a darci questi letti di ricerca. Noi comunque come Center coordiniamo molte attività sia a livello della TS di Milano un bacino di 4 milioni di persone in cui noi coordiniamo le ricerche di tutti i centri di lungodegenza. Siamo molto attivi su alcune ricerche che riguardano pazienti che vengono qua e che non osserviamo ad esempio stiamo cercando i neuroni a specchio nell'ambito di quello che è un paziente stato vegetativo sapete che la ricerca su neuroni a specchio ci dice che noi riflettiamo ciò che vediamo ecco noi stiamo cercando di capire se nelle persone con disordini della coscienza ci siano questi neuroni a specchio per poter trovare delle forme di riabilitazione innovative e dare così delle informazioni che come neuroscienziati stiamo cercando di dare per questi pazienti. Il Coma Center quindi è molto attivo sia sui temi di tipo di ricerca neuroscientifica ma anche sui temi di tipo politico e anche sui temi che hanno delle implicazioni di tipo etico. Partecipiamo organizzando eventi come ad esempio l'ultima conferenza che abbiamo fatto la settimana scorsa con giuristi, filosofi, bioeticisti sull'importanza del consenso informato ma anche le direttive anticipate di trattamento. I pazienti in stato vegetativo sono sempre quelli che vengono menzionati talora molto a sproposito quando si parla di fine vita. I pazienti in stato vegetativo non sono in fine vita e meritano un'attenzione che noi come Centro Ricerche sul Coma come neuroscienziati dal nostro punto di vista cerchiamo di dare.